Siamo in via Oberdan due anni fa una passarella che dava la comodità alle persone di passare e di attraversare il fiume per andare a fare la spesa per spostarsi era stata resa inagibile dal tempo dall'usura poi lo scorso anno cosa è successo questa passarella dai vandali viene incendiata ebbene dopo due anni ancora la passarella in legno di via Oberdan è in queste condizioni bruciata con le transenne non si riesce a passare e le persone sono costrette a fare un chilometro in più per andare ad attraversare la piazza valdesi e raggiungere il centro quindi immaginate quanto fatica e quanto anche impegno devono metterci le persone per spostarsi dalle proprie case ebbene il ponte di calatrava che è il più alto dell'universo sembra hanno impiegato a montarlo un anno e mezzo quindi hanno impiegato a montare un anno e mezzo il ponte più alto dell'universo ma non riescono a sostituire una passarella di 100 metri a via Oberdan dell'universo ma non riescono a stare l'altra